mani battono le 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 mani anche se sto beat non va tiro bomba a mano fra bello a tutti ragazzi qui siamo i TheFinalGamers e oggi vi mostrerò un nuovo video su DavelCub come potete vedere un iscritto mi ha detto se potevo fare un video se potevo fare un video in prima persona e io vi ho detto si che problema c'è ragazzo e quindi facciamo che dobbiamo fare ci proviamo a farlo perché in prima persona è molto difficile ma molto 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 ragazzi eccolo qua oggi ragazzi sono stato a casa del mio amico Fede ho giocato un gioco bello rally però col volante non mi piace il volante a me ragazzi anche me l'avrò comprato per giocare al driver club no no non si poteva non si poteva giocare troppo difficile troppo troppo sgomma troppo non è enorme non puoi giocare col volante a me non mi piace proprio il gioco al volante cioè tra il driver club col volante non si poteva giocare ogni curva che facevi andavi fuori ragazzi tra qualche giorno dovrò comprare watchdog 2 e vi porterò tutta ma tutta tutta la storia perché watchdog 2 mi piace davvero ho avuto anche il primo che era la playstation 3 troppo 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 figo prendendo la scia bella mia cazzo i razzoli miei ecco il sorpasso mamma mia che guidatore ragazzi ragazzi oggi le porto solo questa gara perché ho due c'ho uno a fare oggi e comunque ragazzi iscrivetevi intanto lasciate quanto mi piace che piano piano cresciamo insieme e io divento così forte a registrare che piano piano mi compro la camera poi mi compro il microfono buono poi non so altri giochi belli da comportarvi non so altri giochi belli da comportarvi fai le vai primi ragazzi ragazzoli miei vi saluto da the final gamers ci vediamo al prossimo video ma sicuramente ve lo porterò su the final gamers bella a tutti ragazzi bella 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 bella